Il sorriso di Brody Reed è tutto un programma, basta sclutarne il volto per capire tante cose. L'attaccante del Bolzano in questi due mesi di assenza dal ghiaccio ha sofferto, ha lottato, ha combattuto con un solo obiettivo, tornare più forte di prima. Ci è riuscito Reed, ma non è stato facile recuperare dell'infortunio alla mano destra. È passato un po' di tempo da quella serata di Vienna, era il 9 di ottobre e nella tana dei Capitals, all'11.33 del primo tempo, la sfortuna si è accanita quasi subito sull'attaccante canadese, togliendolo dai giochi, proprio nella serata dell'esordio con la maglia del Bolzano. È successo tutto in fretta, ero arrivato il giorno prima e ho saputo solo a pochi minuti dal match che avrei giocato. Poi è arrivata la tegola, ho preso una discata sulla mano, era il mio secondo cambio in pista e purtroppo è stato anche l'ultimo. La mano si è rotta, ma alla fine sono cose che possono capitare sul ghiaccio, peccato sia capitato proprio a me. Brody Reed alla fine l'ha presa bene, non ne ha mai fatto un dramma, non era infatti la prima volta che un infortunio lo teneva lontano dalla pista per un periodo così lungo. In carriera ho già vissuto un momento come questo, una volta ho avuto un problema alla spalla e sono rimasto fermo due mesi. Bisogna tenere duro e aspettare il momento più bello, quello del ritorno sul ghiaccio. Per me è arrivato e sono davvero felice. Reed ha trascorso due mesi sulla cyclette andando in palestra e solamente da due settimane ha ripreso piena confidenza con il ghiaccio. Tutti hanno atteso il suo comeback a partire da coach Tom Pockel che fino al primo giorno dopo l'infortunio ha sempre confermato che Reed sarebbe rimasto un giocatore del Bolzano. Un bel attestato di stima per il canadese di Delta. Mi hanno fatto molto piacere le sue parole, mi piace questa squadra, abbiamo un bellissimo spogliatoio e i ragazzi sono davvero tutti in gamba. Il coach mi ha voluto a Bolzano e sono felice di lavorare con lui. È un ottimo allenatore, molto preparato e con lui questa squadra sta facendo un ottimo lavoro. Per me sono state settimane intense e adesso spero davvero di ripagare tutta questa fiducia nei miei confronti. Il pubblico del Palahonda ora imparerà a conoscere meglio questo giocatore. Reed è tornato, pronta a mostrare i suoi grandi doti sul ghiaccio. Dopo due mesi è giunta l'ora. Lo sguardo è sempre lo stesso, il sorriso parla da solo. Benvenuti, grazie.